Ciao a tutti ragazzi, eccomi oggi sulla nuova serie S.A.R.O.S.I.P.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S. Fino al giorno 5, però non lo so se sto video sarà caricato, adesso siamo al giorno 4 o al giorno 5, quindi non lo so, iniziamo. Mettiamo qua, va. Cosa so, è stato il start, il potere della pazza. Facciamo guerriero shoot, bellissima, guerriero shoot, dai. Si saranno certi tagli, tipo adesso, questo lo troverete su Facebook, qui eccomi. Il pezzo che ho tagliato lo troverete sulla mia pagina di Facebook. Non sto capendo perché sta lagando il suono, più strano. In questo momento non ballero, non ci sono questi video così, ma è lo zitto. Ma mamma mia, perdi, perdi. Dai dai Spero che questi Youtubers si senterà bene Lord Vader Ci hanno teso un'imposta dal stradino Ma ho la sensazione di otto I tuoi fallimenti non mi restano Quell'ante Sono in missione per stradere Ok Iniziamo il gameplay Iniziamo Sono figo Una spada rossa Wow Come sono le comando così Sì questa satta E mi è No E Onda energetica Nooo Si ok basta Muovete Ma Andiamo Ma Ma erano un gole da Fainer Perché lui ha le gambe Robotiche quindi devo fare il saltarelli Cazzo sta succedendo Sei bloccato Sei bloccato Ah va bene Sta cominciando a fare il monello Questo Non mi piace Non mi piace a me quando fa così via Vola Quando sei grosso Via Ehm Ehm Vattene via Vola 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 Vole Vola Vole Vola Vole 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 ma che faccio vedere non scosti madonna mia che bordello con questi albini in mare io ho fatto fare il bagnetto nanananana quanto è bello sto cazzo di gioco ah devo ringraziare io Vattaglia perché lui me l'ha preso io non ho momentaneamente i saltini e me l'ho voluto prendere lui bella quindi vi raccomando iscrivetevi al suo canale anche solo perché ho fatto sto favore muori 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 lulita scimmia che cazzo sei scimmia che caspita sei quindi questo gioco questa serie la vedrete ogni domenica perché così metto di sabato a caricare il video sabato notte di domenica vi vedete il video aspetta vediamo se riesco a fare l'onde che c'è di casita ho fatto un cazzo no ho fatto fatto via 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 Penso Speriamo che non ci sia il copyright per la musichetta Papparaparap A mettere via Sto sassi ma lo potrei portare? Stiamo sparando eh no vabbè andiamo avanti andiamo avanti si sposte segnalina scimmio esattiamo si alla stile minecraft che cazzo è successo ah è un ascensore guardate che sono figlio quando è bello sto cazzo di distant wars il gioco è uscito il 2009 ragazzi però io ce l'ho adesso proprio adesso su pc aspettate un minuto che che cazzo sta succedendo a fraps non lo so wow che bella sta mossa guardate guardate inizio andiamo 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 avanti si ci vuole pure l'allentatore fraps che cazzo sta succedendo dai odio questo fraps mamma mia ragazzi non si può capire guarda stavo finendo lì sotto no ragazzi come ho detto che se è scritto la pagina di facebook questa serie sarà un po' lungchina cioè più di 30 minuti spera io cercherò di farli durare di meno i video il video quindi se se durano più ragazzi meglio per voi peggio per me vai via starò venendo lui vattene via lo dita scimmia cioè qualcuno guarda stai scimmia mamma mia vola via 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 come spostare la spazzatura vediamo vediamo usiamo un po' la spada vado 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 ragazzi io non so nulla di sto gioco cioè ho visto qualche video che ci so i potenziamenti più del potere ma non li so Oh, una casetta Posso entrare? No Signore oscuro Qualunque cosa tu voglia non la troverai Da me non puoi nasconderti Gelli Vattene qua Uno Gelli Una lotta Dai però non mi devi la che è così Sì, ok, sì Lulido Non c'è da un cazzo con quel cazzo di cosa Allora però non è caduto Oh, oh, tonno Ma tutta che bella mo Avete visto che mo Sei vincita Muori lulido Muori Vieni qua Ops Dove avevo detto vieni qua No, lì sotto Vieni qua da me Vabbè, ti faccio cadere Comunque sono con il computer Cioè Non ho il joypad Sono tutto con le tastiere Stamba Bastata Dove sta per ammazzare questo Muori Rotto cazzo Questa navicella Muori Lulido Ma guardate questo Sto allagando Bastardo Fraps Senza di bella Oh, merda Addio No No, addio per me No Oh, merda Vale, prendiamo Ok Eh Pure le combo ragazzi Eh Vai Vai Ballare Cantare Eh Avverto una presenza più potente nelle vicinanze Dove è il tuo maestro? Il lato oscuro ti ha annebbiato la mente Anni fa tu hai ucciso il mio maestro Allora farai la sua stessa fine Un bambino Scappa Scappa Nordveder Vieni con me Presto ne arriveranno altri Eri debole quando ti ho trovato Ma ora L'odio ti ha rafforzato Adesso Il lato oscuro è tuo alleato Alzati Mio apprendista Quali sono i tuoi ordini maestro? Il tuo addestramento è quasi terminato È il momento che tu affronti la prima vera prova Le tue spie hanno trovato un Jedi Sì Il maestro Ram Kota Vuole attaccare un cantiere imperiale Uccidilo e portami la sua spada laser Partirò subito maestro L'imperatore non deve scoprirti Non lasciare testimoni Uccidi chi si trova a bordo Imperiali e uomini di Kota Come desideri Maestro Ah padrone Un altro duello eccellente Proxy Mi hai colto alla sprovvista Era da anni che non affrontavo quel programma d'addestramento Speravo che usando un vecchio modulo d'addestramento Avrei potuto sorprenderla e ucciderla finalmente Mi perdoni se l'ho delusa ancora So che ci riproverai Sappi che non riuscirei più a cogliermi di so Proxy Ah sì È arrivato il suo nuovo pilota padrone Accesso ai registri imperiali Capitano Juno Eclipse Nata su Korulag dove è diventato lo studente più giovane Mai accettato all'accademia imperiale Pilota da combattimento con oltre 100 missioni completate E comandante durante il bombardamento di Kallus Selezionata da Lord Vader come capitano della sua squadriglia nera Ora riassegnata a un progetto top secret C'è anche il mio profilo psicologico? Certamente Ma è riservato Padrone Temo che il capitano sia un soggetto impossibile da riprogrammare Sai perché sei qui? D'accordo Gli ordini sono chiari Prendermi cura della nave e condurti alla meta delle tue missioni Vader ti ha detto che ha ucciso l'ultimo pilota? No Ma Lord Vader avrà avuto i suoi buoni motivi per farlo Con me Non sarà così Bene Sono stufo di addestrare i piloti Cosa hai fatto alla mia nave? Mi sono presa la libertà di potenziare i sensori della Rogue Shadow Ora è in grado di spiare qualsiasi nave sospetta nell'intero sistema Tu sei una spia di Lord Vader Non sei tenuta a conoscere i dettagli delle mie missioni Ma solo dove sono diretto Ora dobbiamo saltare verso Narsha Da Ovviamente Ovviamente Pensavo che la rimaneva in schimbone Ai ai Vediamo LFPS va da puttane Sale scende Bello Se ma ti muovi magari Ancora non è finita Ehm Ok Si Andi Antonia Ehm Ok Lec Ehm Lec 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 fai finita che difficile Proxy, il bersaglio? Secondo i reggiti per i pericoli, il maestro Ram Kota era il cittadino generale della guerra dei cloni. Cazzo, un jet. Il mio compito è arrestare i nemici di Darth Vader. E anche il tuo. Continua. Kota era un cagno militare. Pensava che i soldi cloni non fossero adatti a combattere. Nella sua squadra non c'erano cloni quando partivano l'ordine 66. Dopo l'ordine 66 scomparre il nube. Secondo i registri mediali ufficiali è il cittadino. Perché ora esce allo scoperto per attaccare l'imperatore? Vuole essere trattato. Allora siamo al suo trattato. Quanti piloti hai perso prima di me? Sette. Perfetto. Ordinate per la marcia e la inserite. Pronto per lì per spazio. Chiudete il centro di comando e preparate il proiettologico. Sì, sì. Le squadre prendono posizione e intercettino qualsiasi elemento ostile. Carica esplosive nei livelli 2, 5 e 12 come stabilito. Signore, lui è qui. Abbassate il campo di contenimento nell'hangar 12, tutti gli uomini pronti. Signore, sì. Spero che l'audio valga bene su YouTube perché io ho sentito tipo babbettare. No, non va bene. Tu devi fare così che babbetta male. Troppo male. Iniziamo bene la serie. Ok. Ok. Spero che l'audio vada bene dei video del gioco perchè sennò mi incazzo, ho sentito tutto bobbettare proprio per fare schifo eh ah no non me la aprite voi la porta e la non c'è se il gioco in questo caso, non c'è se il gioco in questo caso, oh oh, aspettate aspettate diciamo l'energia no ho sbagliato, non capisco perché deve lagare, yes, troppo di me a riparo presto, via 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 Ooου mollate mi già le proprie si fa problemi, poi io non le so un modo non lo so, però aspettate ok quelle stanno spawnendo per di loro vai veloce veloce ma questa porta sono giovane va l'evo va l'evo va l'evo va l'evo 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 il possibile questa volta Tutto l'allentatore ragazzi Solo per voi Frap se lo fa Porca puttana Ma ci sono poi gli obiettivi per casa Vediamo Obiettivi e missione Trova il limite Non ha ricordato che caccia di Distrugge 5 punti Forza Oro Oro Che caccia Oro 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 Madonna mia che negati questi piloti con l'aereo Con l'aereo va bene guarda non sono aeri quindi sono navi spaziali Poi se ci mette pure frappi se che fa così mi sta facendo incassare ragazzi non potete capire Messo Messo Poi se la scelta Non mettiamo a me ammazzare subito Pesso Dai 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 Oh 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 No Dugliate Oh Merda Sì sì Quando siete meno vita se ce l'avete sto gioco Dovete ammazzare per fare sti stronzi Ma si vede da la vita Io non volevo ammazzare me ne volevo andare avanti proprio Poi laca così va favoloso ragazzi verrà sto video sai minchia Ma cazzo devo andare avanti Ma cazzo devo andare avanti Poi via Vola Volare oh oh Cazzo è successo Riturre il legame con la forte diventata più po' forte Uh Ecco ragazzi Quello che dicevo io Queste cose Queste palline Quelle che è più forte adesso Che devo fare Selezionare i potenziamenti Ecco Selezionare i potenziamenti Poi il gioco devo dire Non mi metto di palle Dove devo fare più là Quando avevo più punti No No Deve farlo per forza ora Sì va bene Le so L'ho visto queste cose Va bene Che devo fare Spindere la forza Almeno quasi sta più spinta Anche non lo so Mettiamo vigore Boh Non lo so Che cazzo fare Qua quando è un punto solo Che cazzo ci devo fare con un punto Non c'è un cazzo qua di un punto No Cioè Fionda Scoppio per due Solancio Quasi Alla cazzo l'ho messa Voi se sapete come metterli Fali perfetti Me lo dite Per favore Così siamo a posto Diventano più potenti No Duoh Muostro Via Va bene L'ho beccato L'ho beccato Quanto ve' devo andare? Boh Si ok ho visto qualche video per me Quanto ve' devo andare? Questa Mi dà C'è 10.000 punti Però non so che cazzo Sembano questi punti Beh c'è scritto quello che sembrano questi punti Che se fuori Leggetemi le voi Perché non lo so Ahì Oh Un pezzo di Va bene Vattene via No vanti Vattene via pure tu Stronzo No Svegliate la scura Ma lo tu cazzo Ecco No Minchè non l'ho beccato Ma dove devo andare? Non sei qua Non sei qua Rilevo molte comunicazioni a qualche livello sopra di te Mi stai avvicinando al generale Cota Mi sto avvicinando al generale Cota Via 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 Andiamo via Cos'era questo? L'hanno aumentato Tutto l'alentatore come sempre Grazie a Fraps Via 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 Scappiamo scappiamo Buonasera Che bel giocattolino che hai Vieni vieni non l'ho visto Vieni vieni bene Vieni 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 Nono 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 Muori basta Non so Non c'ho fare il filo con un giocattolino che non puoi manco usare Ma vanti Ma vattene affanco E qui Oh merda Ah Ciao Buonasera Sei dei miei fan? No Non mi conosco Ahi Minchia Oh 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 wow 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 Me sto morendo Grazie Oh, guarda tu, cazzo Devo distruggere Ah, questo devo distruggere Stavo per morire, ragazze Mamma mia Oh, dovete morire tutti No, guarda Eh, ragazze, è difficile questo mouse E la testiera Ah, man Speriamo che durerà poco Ma non pensa proprio Mamma mia Ma stai antipatico Ma stai antipatico Oh, prendiamo quello, prendiamo quello, prendiamo quello, prendiamo quello, prendiamo quello andiamo 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 ma perché da uno rompermi il cazzo questo si passa questo penso che si esce eh si ok lo so come si fanno fate un affango la 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 ma no, devo scendere qua e ora? qua si? no? si lo distrugio io allora il primo consiglio ammazziamo sempre prima mi rompi palle eh quanta padella se non mi lanciavo qualcosa quello non è contento mi sa che quelli è meglio che non li distruggia spazio oh eh mamma mia quanta potenza la 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 una scatoletta ok dopo ho fatto sta scatoletta devo fare spero mai dove devo andare ok ok il punto di comando è proprio sopra grazie a casa l'ascensore l'ascensore vabbè, facciamo prima noi, va? wow 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 sto figlio dell'ami amante e lì come cazzo c'è lì? voglio arrivare lì? ma c'è l'ascensore che arriva prima di sopra ecco qua ti prendo quel bounce di sopra oh più di una no no dobbiamo fare il primo fail andiamo ammazzare sto maestro iota, kota riscotola dai 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 veloce veloce buonasera buonasera si si no noi sopra e sopra vallami Guarda che sono bello Andiamo andiamo Ecco Qui No Ma che cazzo è sto questo? Questo ragazzi durerà lungo i video Ai Ma mi cerco di combattere Tutta cosa è la cosa? Oh andatemi la fa Ma perché devo combattere questi pulci? Vattene via Dove dobbiamo andare? Di qua se Oh no Non ricordo Namu namu Veloci Veloci Namu Veloci Mi cerco di ammazzare Bene Ora coda è proprio sopra di te Ok Coda Adipo Guardate che sono cazzuto Uh Uh che bella parola Ma Cosa darebbe? La luna? Boh Ok silenzio Come Un ragazzo Dopo mesi di attacchi contro bersagli imperiali Vedder manda un ragazzo a fermarmi? Sì Sì Il ragazzo che ti fa il culo Problemi? Poi non so ragazzo Una scelta di tavola Quindi non me la vince Quindi segnalino Arrivo Vieni qua a testa di vitello Concedere un ragazzo Non mi ha insegnato niente No me non mi insegna nessun niente Mi imparo da solo Visto? Uh che potenza Uh che paura Va muori stronti al generale cota Muori Dificcola spada Molto da imparare sulla forza Eh vabbè Hai bosca puttana Combatti l'uridogeli Vedrò ucciderti per arrivare a Sei più forte di quanto pensassi Ma non posso lasciarti vivere ragazzo Manterò le tue generi La veder Oh man Perchè tasto para Eh Io la butto proprio la spada laser Mi butto a te Non la spada laser Vai Ah Avviati di lanciarmi le cose Questa di minchia Io si invece Addio Vediamo le combo Ok Spazio No non l'ho premuto Ecco vedete Spazio No Sbagliato tasto Posso scoprire Spazio Eh Ecco Poi Basta Vedr crede di averti cambiato Ma io prevedo il tuo futuro Vedr non sarà sempre il tuo maestro Percepisco solo Io? Che culo che c'era quella che mi è presa Sennò vediamo lì sotto Comunque ragazzi Concludiamo con i video Dai che Sennò viene Troppo lungo Quindi se no che vi è piaciuto Mi raccomando Commentate Condividete Mettete mi piace se volete Al prossimo video Ciao ciao